Io poi penso, lo ripeto, l'ho già detto altre volte, che su un tema come questo già di fatto non dovrebbe esistere il vincolo di mandato, ma su un tema di riforma costituzionale credo che questo elemento qui sia addirittura assolutamente, diciamo, non può essere messo in dubbio. Per cui io almeno parlo per me, perché in questi casi non si deve mai parlare per altri, perché non è che esistono. Ognuno fa un suo mandato, ha una sua coscienza. Parlo per me e quindi ripeto che se per caso dalla riforma non uscisse un senato elettivo, io non la voterei.